La prima del Petruzzelli, le nozze di Figaro di Mozart inaugura la stagione 2016 del Politeama il nostro live con il presidente della fondazione Carofiglio e il sovrintendente Biscardi Amtab, fioccano le multe, nuovi controlli questa mattina a bordo dei bus, elevate 88 sanzioni a passeggeri sprovvisti di biglietto Multiservizi, la parola De Caro, il sindaco sarà ascoltato in commissione aziende sulla tanto discussa nuova sede Palazzo in Fiamme, in Via Melo, questa mattina l'incendio è scoppiato nel vano ascensore, evacuato l'immobile, nessun ferito Buonasera diretta dalla redazione di Telebari, come sempre saremo in vostra compagnia per un'ora per raccontarvi quello che è accaduto oggi nella nostra città e commentarlo con i nostri ospiti, lo avete sentito già dai nostri titoli, tra poco la prima del teatro Petruzzelli che inaugura la nuova stagione della fondazione sinfonica con le nozze di Figaro di Mozart per la regia di Chiara Muti Io vi collego subito con la nostra Barbara Cirillo in diretta da Petruzzelli, Barbara buonasera Buonasera a te Alessandra, buonasera a tutti i nostri telespettatori ma soprattutto buonasera al sovrintendente Massimo Biscardi Buonasera Allora si inaugura finalmente la stagione lirico-sinfonica 2016 del Petruzzelli o forse sarebbe meglio dire del nuovo Petruzzelli, si riparte da qui Beh, del nuovo Petruzzelli per tanti motivi ma direi, parliamo oggi di motivi artistici Una prima edizione integrale delle nozze di Figaro, mai realizzata a Bari con un nuovo allestimento realizzato in coproduzione fra i tre grandi teatri del sud cioè i Petruzzelli di Bari, il San Carlo di Napoli, il Teatro Massimo di Palermo Mi pare sia di buon auspicio per un proseguo di una grande stagione Di buon auspicio anche un direttore d'orchestra giovanissimo e a una giovanissima Chiara Muti alla regia Devo dire che è un cast che ha funzionato molto bene, Matthew O'Quinn e Chiara Muti hanno lavorato molto bene insieme lo spettacolo è solare, è fresco, è molto bello e cantanti che parrebbero essere stati scelti per fare un film, non per fare una realizzazione d'opera per cui mi pare che sia un prodotto di grande interesse e il fatto che sia il teatro tutto esaurito, non solo questa sera, mi dà buone speranze Forse poche repliche per Le Nozze di Figaro Sì, un errore devo dire, degli errori fossero sempre questi perché noi abbiamo previsto otto recite per ogni produzione d'opera di altri titoli Le Nozze di Figaro che è un'opera più delicata per non osare troppo ho pensato di fare solo quattro recite è stato un errore, questo serve a capire che il pubblico è un pubblico maturo per anche osare di più il futuro Ecco un'ultima domanda sovrintendente, perché partire proprio dalle Nozze di Figaro? Beh insomma ci sono dei motivi, è l'opera che avrebbe dovuto essere realizzata a Bari quando l'incendio distrusse il teatro Petruzzelli un motivo così sentimentale se vogliamo ma al di là di questo forse Mozart è uno dei più grandi autori di tutti i tempi del teatro d'opera e forse Le Nozze di Figaro è una delle dieci opere più belle mai scritte Io le ringrazio per essere stato qui con noi, buona serata Grazie a voi, arrivederci Alessandra ti restituisco la linea, tra pochissimo sempre dal foie del teatro Petruzzelli Grazie Barbara e grazie al sole intendente Biscardi nuovi collegamenti nel corso del nostro telegiornale noi andiamo avanti e parliamo della Bari Multiservizi il sindaco De Caro sarà ascoltato nei prossimi giorni dai componenti della commissione aziende che chiedono l'UMI sulla tanto discussa nuova sede ce ne parla Serena Russo Il sindaco, convocato più volte, ha finalmente dato assicurazioni circa la sua presenza in commissione aziende per parlare della questione nuova sede per la Bari Multiservizi il quando si vedrà Proseguono interrotti i lavori dei consiglieri comunali per far luce sulla decisione assunta durante gli ultimi giorni di vita della gestione Olivieri sul trasferimento di tutti i dipendenti nel capannone da 2800 metri quadri al quartiere San Paolo di proprietà della MIPA SRL una decisione secondo molti azzardata visto l'enorme impegno di spesa richiesto non solo per il fitto dei locali 120.000 euro annui ma anche e soprattutto per i lavori di adeguamento della struttura lavori stimati per oltre un milione di euro può una società come la Multiservizi affrontare una spesa così onerosa? Dobbiamo ricordare che tra tre anni l'amministrazione comunale quale socio unico dovrebbe versare ulteriori 2.700.000 euro per acquisire la sede quindi arriviamo a delle cifre da capogiro che andrebbero ovviamente a pensare notevolmente sulle case del bilancio comunale e conseguentemente tengo a ribadirlo su quelle di ogni contribuente variette Una cosa però dobbiamo sottolineare consigliere Piccaro che la Multiservizi è una partecipata del Comune quindi il Comune tutto sommato doveva essere d'accordo con queste decisioni? Sì, stando alle carte il Sindaco ha dato ampio mandato al CDA di individuare una nuova allocazione per la sede e la struttura logistica della Multiservizi stessa quindi c'è stato un beneplacito precedente e ora io chiedo fortemente un impegno del Sindaco a rescindere questo contratto perché altrimenti, ribadisco ne andrebbe della solidità della società stessa dei lavoratori nonché dei cittadini varietti Nuovi controlli a sorpresa sui bus urbani in un'ora e mezza questa mattina sono state elevate 88 multe lo abbiamo detto e lo stiamo facendo ha commentato il Sindaco Antonio De Caro stamattina i vigili urbani hanno accompagnato i verificatori dell'Antab a bordo degli autobus elevando 88 multe e meno di un'ora e mezza di controlli sulle linee 3 e 16 questo significa che sono davvero pochi i cittadini che hanno l'abitudine di acquistare il biglietto per utilizzare i mezzi pubblici e che non bastano gli appelli al senso civico e rispetto delle regole per cambiare le abitudini sbagliate non ci fermeremo assicura il Sindaco continueremo con i controlli e con le multe nella speranza che i cittadini per bene che continuano a fare il proprio dovere pagando il biglietto siano dalla nostra parte e condannino chi non lo paga torniamo a parlare del villaggio dei migranti dopo le polemiche dei giorni scorsi le opposizioni in consiglio comunale tornano in largo Moabed Pascià per verificare le condizioni della zona insieme ai consiglieri di Forza Italia e Fratelli d'Italia a soprallogo questa mattina anche dell'AMIU nei prossimi giorni si provvederà alla rimozione dei rifiuti presente anche la polizia municipale tragedia sfiorata questa mattina a Bari dove un incendio è divampato in uno stabile di sette piani in via Melo la cronaca di Cristina Ferrini un cortocircuito scaturito dal vano ascensore la probabile causa dell'incendio che intorno alle 13 è divampato in uno stabile in via Melo a Bari questa l'ipotesi dopo le verifiche dei vigili del fuoco che sono intervenuti con 4 squadre e 2 autobotti lo stabile su cui sono in corso le operazioni di messa in sicurezza è stato fatto evacuare 8 i condomini che si trovavano all'interno della palazzina quando è scoppiato l'incendio sette di loro sono scesi in strada attraverso la scala mobile dei pompieri puzza di bruciato puzza di bruciato un fumo insopportabile come è sceso? in che modo è sceso? con l'aiuto dei vigili del fuoco? con la scala che hanno messo l'occhio due inquilini sono rimasti lievemente intossicati e soccorsi da un'ambulanza del 118 per fortuna nessun ferito i soccorsi tempestivi hanno evitato la tragedia come ci racconta una signora che abita al primo piano dello stabile io non me ne ero accorta a dire la verità sì mi hanno avvertito loro e io sono scesa però dall'altra parte della casa perché oramai era tutto affumicato mi ha chiamato un cittadino residente dicendomi che c'era fumo che fuoriusciva dal palazzo sia dalla tromba delle scale che dal penultimo piano e siamo arrivati qui erano già arrivati sul posto i vigili del fuoco poi subito dopo la polizia di stato abbiamo visto che c'era fumo che fuoriusciva da tutto il palazzo ci dicono sia un cortocircuito adesso stanno facendo accertamenti la procura di Bari ha iscritto nel registro degli indagati tre persone per la morte di Carmela Pizzuto 40 anni è venuta ieri dopo un incidente stradale fra un'ambulanza e un'auto all'angolo di via Crisanzio e via Quintirosella nel centro di Bari nello schianto sono rimaste ferite in maniera non grave anche altre sette persone i quattro sanitari a bordo del mezzo del 118 il conducente della Citroen C3 con cui l'ambulanza si è scontrata e sua moglie ed una passante 17enne il PM Chiara Giordano che coordina le indagini sulla vicenda ha individuato possibili responsabilità nei confronti degli autisti dell'ambulanza della Citroen e di un'altra auto parcheggiata in diveto di sosta e che sarebbe stata coinvolta nella dinamica dell'incidente i tre rispondono come atto dovuto da parte della procura di omicidio colposo domani sarà conferito al medico legale Francesco Entrona del Policlinico di Bari l'incarico per l'autopsia sul corpo della vittima per accertare se sia morta per il quale i familiari avevano chiesto l'intervento del 118 in occasione del mese della memoria questa mattina nell'aula del Consiglio regionale la cerimonia di commemorazione il presidente Mario Loizzo ha letto il messaggio del governatore Michele Emiliano che sottolinea l'importanza di educare i giovani a non rimanere indifferenti di fronti a simili accadimenti tra l'autorità era presente anche il prefetto Carmela Pagano e adesso vi raccontiamo la singolare storia di un artigiano barese un calzolaio che è finito sulle riviste italiane di economia come eccellenza del secondo settore sentiamo e dopo aver lasciato appunto questa azienda multinazionale decido di intraprendere questa nuova praticamente sfida che mi ha permesso di rivedere questo antico mestiere che era un po' relegato e delegato a chi probabilmente non trovava niente da fare e quindi tra virgolette etichettato come ciabattino si lascia alle spalle una promettente carriera da responsabile alla Natuzzi colosso mondiale del divano e decide di mettersi a fare il ciabattino è la singolare storia dell'artigiano barese Domenico Entini cinquantenne che da tre anni lavora nella sua bottega a Iapigia perito chimico nel 97 inizia a fare carriera nella Natuzzi con la qualifica di tecnico specializzato dopo tre anni diventa responsabile del controllo alla qualità dei prodotti successivamente dell'ufficio ingegnerizzazione sempre per il gruppo Natuzzi la crisi economica sta per colpire anche il comparto del salottificio e Mimo Entini si licenzia per lanciarsi in una nuova avventura quella del fotovoltaico sarà assunto in una società di energia di Matera da qui alla decisione di lasciare tutto e mettersi in proprio il passo è breve un lungo viaggio in India e poi il ritorno in Puglia dove inaugura la sua calzoleria convinto che l'artigianato unito alla nuova tecnologia rappresenti una risorsa per il futuro dell'economia una risorsa che deve essere scoperta perché non dimentichiamoci che nel dopoguerra è stato motivo di successo degli italiani in tutto il mondo in America in Sud America soprattutto in Venezuela dove molti artigiani hanno riconquistato la loro identità portando ricchezze in Italia Dopo 30 anni Parco 2 Giugno si rifà il look numerose interventi di manutenzione straordinarie in vista del suo anniversario nella prossima primavera questa mattina i primi lavori per cancellare le scritte spray sulla meridiana che sarà successivamente valorizzata attraverso un nuovo impianto di luminotecnica ed una recinzione naturale di siepi e arbusti La giunta comunale si riunisce per fare il punto sul progetto Vari per Bene attivo dal 7 gennaio sul quartiere Libertà le novità dall'assessore all'ambiente Pietro Petruzzelli Assessore riunione questa mattina con tutti i suoi colleghi quindi tutta la giunta per parlare di Vari per Bene per fare un attimo il punto della situazione Ma sì per rilanciare la volontà dell'amministrazione comunale di portare avanti il progetto di Vari per Bene sul quartiere Libertà siamo divisi i compiti diciamo come ognuno per le proprie deleghe perché come sapete Vari per Bene è un patto con i cittadini Quali sono gli atti concreti che metterete a punto nei prossimi giorni? Gli atti concreti sono tanti Vari per Bene e Libertà durerà qualche mese perché naturalmente è un quartiere più grande rispetto a Madonnella piuttosto che a Barivecchia ma parte dalla ZSR parte dalla questione delle rastrelliere che ormai hanno finito di posizionare in tutto il quartiere parte dalla questione dello spostamento e del tracciamento della segnaletica orizzontale per i cassonetti Multe a che quota siamo? Le multe ne stiamo facendo tante solo nella mattinata di ieri si sono fatte 10 multe per il conferimento fuori orario e 2 multe per la mancanza di raccolta di deiezioni canine sono 1600 multe fatte alle infrazioni al codice della strada e anche le multe che la PM la polizia municipale sta facendo sugli autobus quindi guardate noi stiamo tenendo dritta la barra chiediamo ai cittadini di aiutarci di fare anche loro la loro parte bene ci fermiamo breve pausa pubblicitaria restate con noi tra pochissimo commenteremo i principali fatti di questa giornata con il caporedattore del Corriere del Mezzogiorno Angelo Rossano a tra poco rieccoci ancora qui in diretta vi saluto subito il caporedattore del Corriere del Mezzogiorno Angelo Rossano con il quale commenteremo i principali fatti di questa giornata ciao Angelo buonasera a tutti ciao Alessandra allora tra poco la vedo già pronta però diamo i tempi tecnici per sistemarci ci colleghiamo dal teatro Petruzzelli avremo tra qualche istante anche il presidente della fondazione Petruzzelli Gianrico Carofiglio vi ricordo c'è la prima Nozze di Figaro che apre la stagione del teatro allora la vedo pronta diamo subito la parola a Barbara Barbara non so se riesci a sentirmi vengo da te e sì Alessandra sono con il presidente Gianrico Carofiglio stavamo proprio ora commentando fa un certo effetto è vero la mostra comunque aperta la mostra con la prima e tutto quanto è veramente una cosa spettacolare con tutte non neghiamolo le amarezze di questi giorni questa è una cosa che ti ricompensa bellissimo credo che andremo a vedere un'opera straordinaria anche è la prima volta l'inaugurazione insomma da presidente al Politeama Varese sì è la prima volta da presidente insomma credo che tutto quello attraverso cui siamo passati e stiamo passando sia però davvero un nuovo inizio e questo è un bel modo di fare un nuovo inizio ci sono nei prossimi giorni tante novità che racconteremo prima di tutto a voi giornalisti e davvero penso che quest'anno sarà l'anno della vera svolta soprattutto artistica del teatro io ci provo ce ne può accennare qualcuna? ma sì senza alcun dubbio abbiamo una serie di iniziative per esempio il ciclo di importantissime conferenze di cui avevamo parlato l'anno scorso cioè una riedizione dei giovedì o mercoledì letterari o una cosa in bilico tra questo e le lezioni di storia dell'auditorio di Roma lo faremo al Petruzzelli per esempio tanti concerti di tutti i tipi novità e alcune cose che vi racconteremo fra qualche settimana nuovissime che coinvolgeranno tutta la città ma davvero sarà un anno ricco di cose eccitanti ecco anche perché insomma serve alla fondazione serve ai baresi serve a voi che state portando avanti il vostro percorso ma sì credo di sì io devo dire tutte le cose non piacevoli di cui abbiamo sentito parlare in questi giorni hanno paradossalmente prodotto un effetto opposto a quello che uno potrebbe immaginarsi sui baresi e sui sostenitori del teatro io ricevo chiamate di sponsor che già sono sponsor e di aspiranti nuovi sponsor che dicono di volerci stare in questa partita perché percepiscono questo evento di cambiamento è tutto molto bello e se poi il tutto parte dal presidente dal sovrintendente bisogna solo che avere fiducia no? sì bisogna avere fiducia non per via del presidente del sovrintendente ma come abbiamo detto molte volte perché questo è un bene comune che va percepito come bene comune Alessandra non so se ci sono domande da studio nel caso passo subito l'auricolare al presidente magari Barbara se il presidente è a modo di ascoltarci possiamo interagire un attimo anche con il capoledattore del Corriere Mezzogiorno Angelo Sano buonasera presidente e velocemente Dostoevsky diceva la bellezza salverà il mondo la bellezza di questa stagione salverà il nuovo Petruzzelli? ma io credo che il Petruzzelli si sia già salvato mettendo in moto questo meccanismo di rinnovamento di pulizia di trasparenza poi la bellezza della stagione e di tante altre cose che faremo aiuterà diciamo a fare questo passaggio che è un passaggio decisivo strategico una domanda per lei anche dal caporedattore del Corriere Mezzogiorno Angelo Rossano che è qui in studio accanto a me buonasera buonasera presidente intanto in bocca al lupo in bocca al lupo per questa sera dico in bocca al lupo viva il lupo viva perché quello che si dice a teatro non si può dire in televisione per fare gli scongiuri ecco la cosa che le volevo chiedere faccia protetta quello che le volevo chiedere è questo il teatro Petruzzelli è sempre stato specchio della città insomma della sua concretezza della sua speranza quando è sorto delle sue ambizioni anche un po' sfrontate negli anni 80 negli anni 90 è stato questo bello fuori e vuoto dentro insomma dentro era soltanto un cratere allora le chiedo adesso che specchio è per la città il teatro Petruzzelli ma io credo che il Petruzzelli sia stato in passato soprattutto quando è nato e lo sia soprattutto adesso una metafora del desiderio di cambiamento dell'idea di questa città e della sua parte migliore di essere il vettore culturale un luogo in cui accadono le cose e maturano le nuove idee è una grande metafora perfetto un grande in bocca al lupo allora al presidente e al teatro Petruzzelli grazie grazie Alessandra ci vediamo tra poco con te noi intanto andiamo avanti perché questo è il lato bello del teatro Petruzzelli c'è però un lato scuro che è quello che riguarda le inchieste tra l'altro proprio questa mattina il sovrintendente Biscardi si è recato in procura per portare gli atti che riguardano le assunzioni di questi macchinisti e già si inizia a potizzare una presunta parentopoli su questa assunzione guarda hai detto un lato oscuro questa cosa evoca tutta una serie di faccende legate a Petruzzelli intanto la questione degli appalti delle luci che servono proprio a evitare l'oscurità o comunque interagire sull'oscurità e poi la cosa che ha detto il sovrintendente Biscardi oggi entrando in tribunale parlando con i giornalisti ha detto il Petruzzelli è una casa di vetro deve essere una casa di vetro sarà una casa di vetro e quindi proprio il contrario dell'oscurità che evocavi tu non c'è dubbio che i problemi ci siano a Petruzzelli ha fatto bene il presidente della fondazione Gianrico Carofiglio che abbiamo appena sentito a evocarli con leggerezza con un volo diciamo di superficie perché questa sera è la sera della festa l'inaugurazione della stagione lirica devo dire che abbiamo visto prima le immagini ma noi abbiamo la fortuna di vederle in tempo reale in tempo reale forse in bassa frequenza si dice viene fuori io lo dico forse non sarà popolare un bel sapore di provincia forse anche sano comunque di provincia della tradizione della provincia ho visto persino qualche papillon per la prima perché la prima della stagione lirica è una serata elegante e quindi bisogna anche forse far sfoggio di quello che sia di solito in cassaforte quindi stasera è la serata della festa però la festa tutti in bocca al lupo di questo mondo non possono far dimenticare il brutto momento che sta vivendo il teatro che speriamo non sia metafora come diceva il teatro Petruzzelli è una metafora della città ma speriamo che in questa vicenda non lo sia oppure lo sia soltanto nella parte che pure evocava caro figlio cioè della rinascita cioè che sia un momento di ripartenza non sarà facile perché sono 25 anni più o meno che il teatro è bruciato può essere tra l'altro di buon auspicio Angelo anche il fatto che oggi il Petruzzelli riparta con le nozze di Figaro di Mozart che come diceva il sovrintendente Biscardi sarebbe stata l'opera che sarebbe andata in scena subito dopo l'incendio che poi dissusse il petruzzelli l'incendio del teatro è una cosa che diciamo ha segnato tutti noi paresi io ricordo ero praticamente un ragazzino e andavo con mio padre a vedere le opere poi per una generazione a me è mancato per oltre 20 anni è mancata la possibilità di andare al teatro a vedere quel livello di rappresentazioni che solo in parte stiamo cercando di raggiungere adesso con questa gestione perché? perché non ci sono più i soldi che c'erano una volta non c'è più la capacità di spesa pubblica che c'era lo sforzo è tanto è stato giustissimo sottolineare l'errore Biscardi lo ha messo delle scarse repliche delle nozze di Figaro perché effettivamente se c'è l'offerta di teatro di cultura poi alla fine si vede che c'è risposta il pubblico risponde però questi sono gli errori belli dei quali imparare beh sì appunto niente di tragico no no decisamente e allora cambiamo argomento perché è continuo questa stretta sui controlli dei bus a danno dei cosiddetti portoghesi di chi non paga il biglietto quello che sta emergendo è una realtà poco confortante cioè di chi ritiene che il servizio pubblico non vada pagato perché è stato lanciato addirittura anche una fotografia da in cui c'era un tantammo sui social tra i non paganti gli ospiti non paganti dei bus dell'Amtab che suggeriscono invece di pagare il biglietto perché evidentemente è una consuetudine quella di non farlo è una battaglia di civiltà quella che sta portando avanti la notizia di oggi era 88 multe in un'ora e mezza ho fatto un conto che poi è la cosa con cui ho fatto il titolo di uno dei pezzi degli articoli che uscirà domani è una multa a minuto se ci facciamo caso ieri era sicuramente una multa a minuto perché erano 66 in un'ora esatto ora sono 88 in 90 minuti un'ora e mezza è una multa a minuto ma nel minuto diciamo in un periodo così ristretto di tempo vuol dire che è un campione rappresentativo al massimo è vero ha ragione Alessandra quando dice che c'è un'enorme fetta di utenti del bus che ritiene di non doverlo pagare forse conviene spiegare non voglio fare lezioni di economia perché non sono capace ma il bene il servizio pubblico ha un costo per sua natura inferiore a quello che sarebbe di mercato il mercato stabilisce un prezzo incrociando la domanda e l'offerta lì dove si incrociano quel punto è il prezzo giusto cosa succede invece nel bene pubblico nel servizio pubblico che quel punto viene abbassato in maniera artificiosa in qualche modo quindi questo dobbiamo saperlo noi paghiamo il bus molto meno di quanto dovremmo pagare se noi pagassimo un gestore privato che fa quel servizio probabilmente pagheremo 5 euro a corsa 3 euro a corsa non 1 euro un euro è il prezzo perché è un servizio pubblico ma tale può restare servizio pubblico se tutti diamo il nostro contributo a me capita spesso di prendere io uso la navetta quella che fa il lungomare spesso perché mi porto in centro facilmente da casa mia costa un euro certamente ci penso un euro non è pochissimo per fare il lungomare però è il prezzo stabilito bisogna farlo e su questo l'amministrazione comunale deve avere anche il sistema dei media al suo fianco nel senso che noi dobbiamo insistere con i cittadini per far capire che così come il canone della RAI si può dire RAI a Telebari? certo che si può dire il canone della RAI era una cosa che andava pagata adesso hanno fatto questo sistema per cui si paga nella bolletta elettrica gli autobus insomma se no poi non ci possiamo lamentare degli autobus che cadono a pezzi indubbiamente lo si può dire perché noi non temiamo la concorrenza di nessuno fate benissimo allora ci colleghiamo per un attimo con il Teatro Petruzzelli perché sta per alzarsi il sipario sulla prima del Teatro Petruzzelli tra l'altro vi anticipo già che nell'ultimo spazio del nostro telegiornale vi proporremo un estratto dell'opera mentre va in scena Barbara vengo da te sì Alessandra siamo in platea tra pochissimo chiuderanno le porte appunto della platea per dare il via a questa nuova stagione la stagione 2016 della fondazione lirico-sinfonica vi ricordo che le repliche delle nozze di Figaro andranno in scena venerdì alle 20.30 domenica invece alle 18 e nuovamente martedì 2 febbraio alle 20.30 io ti saluto augurando a te a tutti i nostri telespettatori buona serata ricordandovi come hai fatto bene tu poco fa che tra pochissimo trasmetteremo proprio una parte dell'opera che sta per andare in scena al Teatro Petruzzelli grazie Barbara allora noi ci vediamo dopo invece con te Angelo parliamo del tanto discusso villaggio dei migranti l'opposizione si sta scatenando su questa storia una vera e propria bufera che ha chiamato raccolta anche i residenti perché vale come sempre la regola per carità hanno tutte probabilmente le loro ragioni nel dire di non volere un villaggio dei migranti in una zona che comunque ha tanti altri problemi con cui dover convivere però insomma l'idea è sempre quella sì va bene l'importante che però non vengano messi accanto a casa mia o nel giardino di casa mia sì io su questo rifletto è chiaro che è un comportamento irrazionale è come quando bisogna far passare il tubo del gasdotto tapage non nel mio comune allora tutti hanno motivo per dire non nel giardino di casa mia è una traduzione di una formula anglosassone e che è spesso criticata io invece la accolgo nel senso che se noi accettiamo che nelle comportamenti umani ci sia una componente di irrazionalità immagino pensiamo all'amore non è che l'amore è un fatto razionale è un fatto irrazionale anche l'atteggiamento di dire non nel mio giardino è un fatto irrazionale è però che noi non possiamo far finta possiamo come dire derubricare a stupidaggine è una cosa con cui fare i conti perché tutti siamo per l'accoglienza nessuno è per l'accoglienza in casa propria e questa è una verità con la quale bisogna fare i conti e che quando si organizzano poi le forme di accoglienza forse bisogna tenere presente in maniera tale da evitare questi disastri io faccio sommessamente notare è vero la situazione dei profughi eccetera ma passate dalle parti di Apigia dove c'è il campo Rom di quante cose avrebbero bisogno le famiglie Rom che vivono lì i bambini Rom che vivono lì che frequentano le stesse scuole dei nostri figli perché nella stragrande maggioranza dei casi parliamo di persone che mandano a scuola i figli però vivono in una condizione in cui probabilmente nessuno dei nostri telespettatori sarebbe disponibile a vivere vedo le immagini sì una regia prontissima una regia prontissima sì che ci mette in bella mostra tutte le immagini perché in realtà noi abbiamo fatto anche un live dal campo Rom che è il campo riconosciuto anche dal comune e in effetti diciamo che questo campo è un bel esempio di convivenza però guardate quelle baracche sì sì è un bel esempio di convivenza però insomma basta guardarle quelle baracche io sono convinto che insomma è difficile entrare in queste cose però far finta che vada tutto bene no far finta che vada tutto bene no così come a me capita spesso di vedere perché il Corriere del Mezzogiorno è proprio lì vicino alla fermata del bus che passa prende i migranti i profughi che porta in centro li trasporta dal cara al centro beh lì certe volte si creano degli affollamenti di persone che aspettano il bus e che hanno dei bisogni fisiologici e l'unico modo per soddisfarli è andare nel giardinetto vicino al castello Svevo e fare lì quello che invece andrebbe fatto in un bagnetto questo per dire solo che insomma l'accoglienza è doverosa tutti ci dobbiamo mettere in campo su questo e però va fatta secondo criteri che non ledano diciamo così il quieto vivere del prossimo questo insomma al di là delle ipocrisie la vedo la vera integrazione dice anche evitare che poi si creino delle bombe d'orologio esatto infatti allora parliamo invece di un'altra emergenza che è stata lanciata proprio ieri dal comitato per l'ordine della sicurezza pubblica ed è l'emergenza criminalità nel senso che diminuiscono i piccoli reati però è stato lanciato un vero e proprio allarme rapine se sono più confortanti i dati c'è da dire però che la percezione di sicurezza dei cittadini decisamente non è confortante perché invece tende ad aumentare la risposta del comune di Bari e l'installazione di 100 telecamere di videosorveglianza molte delle quali saranno collegate con la centrale operativa di questure polizia municipale fungeranno da deterrente e questo ce l'auguriamo ma sai che mi fa venire in mente un articolo che pubblicamo sul Corriere del Mezzogiorno a firma di una sociologa si chiama Letizia Carrera che raccontava come la mappa della città la mappa di Bari per una donna sia più piccola perché è più piccola in termini di spazio di tempo cioè non in tutte le ore una donna può girare in tutti i luoghi della città cioè è come per lei se ci fosse una mappa diversa di Bari poi a seconda dei casi se è solo seppure accompagnato se magari in un gruppo di donne che esce e questo io trovo un'affermazione che trovo molto vera da chiaramente l'idea di che cosa sia la percezione di cui parlavi tu in questa città è indubbio che Bari è una città dove c'è una percezione diciamo di insicurezza ancora molto molto elevata al di là dei dati e soprattutto al di là delle interpretazioni che i politici danno dei dati proprio domani pubblichiamo un commento che chiede a proposito della criminalità e delle analisi sulla criminalità un come devo dire 100 grammi di onestà politica in più cioè è inutile fare proclami per dire ah ecco la situazione migliora meno furti più rapide insomma quello che conta è la percezione perché poi a volte i reati che creano un'arma sociale sono anche il fatto che calino magari può anche essere il sintomo che la criminalità organizzata più grande si stia organizzando quindi vanno letti con grande attenzione quello che è certo che la criminalità barese diciamo sulla criminalità barese non ci si può arrendere non si può abbassare la guardia le recenti scarcerazioni penso a Savino Parisi per esempio hanno messo in subbuglio gli equilibri tra i clan per fortuna abbiamo un ottimo questore forza dell'ordine sul pezzo come dire anche i carabinieri guardia di finanza il loro lavoro è prezioso e deve continuare in questo senso la criminalità barese dicevo sono matti questi che vanno in giro si drogano come matti vanno in giro con i motorini quando ci sono gli attentati sparano in mezzo alla gente non è successo molte settimane fa ricordiamo Angelo che tra l'altro fu proprio un allarme lanciato anche dal presidente della corte d'appello Castellaneta durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2015 visto che sabato c'è l'inaugurazione dell'anno giudiziario vedremo che cosa sarà cambiato se sarà cambiato qualcosa e vi ho offerto anche un assist utile per anticipare già i nostri telespettatori che di criminalità parleremo venerdì sempre nel nostro telegiornale dalle 20.45 alle 21 proprio con il questore Antonio De Jesu che sarà qui nei nostri studi allora Angelo come sempre siamo in chiusura dell'appuntamento sulle pagine del giornale hai già anticipato qualcosa che leggeremo domani ricordo soltanto insomma vi racconto soltanto che c'è una bella riflessione sulla giornata della memoria che ricorda i campi di concentramento che pure ci furono in Puglia e il coraggio del giorno dopo ora non voglio essere ingeneroso il giorno dopo ci fu il coraggio del giorno dopo cioè alla liberazione però ci fu davvero anche tanta generosità nel Salento furono ospitati tanti i pescatori del Salento ospitarono tantissimi ebrei in fuga in attesa di andare ritornare trovare la loro la loro terra però ricordare che anche qui ci sono stati dei campi di concentramento certo non di sterminio ma dei campi delle Tremiti e altri luoghi insomma fa bene appunto perché la giornata della memoria deve essere della memoria davvero allora come sempre appuntamento sulle pagine del Corriere del Mezzogiorno e su Twitter su Twitter e io invito i tuoi telespettatori a seguire dopo l'inizio delle nozze di Figaro perché è una bella occasione che date infatti che diamo ai nostri telespettatori grazie ad Angelo Rossano capo redattore del Corriere del Mezzogiorno grazie per essere stato con noi noi ci fermiamo pausa pubblicitaria e torniamo tra poco con altre notizie restate con noi grazie a tutti la prima del Petruzzelli le nozze di Figaro di Mozart inaugura la stagione 2016 del Politeama Barese il nostro live con il presidente della fondazione Caro Figlio e il sovrintendente Biscardi Amtab fioccano le multe nuovi controlli questa mattina a bordo dei bus elevate 88 sanzioni a passeggeri sprovvisti di biglietto molti servizi la parola De Caro il sindaco sarà ascoltato in commissione aziende sulla tanto discussa nuova sede palazzo in fiamme in via Melo questa mattina l'incendio è scoppiato nel vano ascensore evacuato l'immobile nessun ferito eccoci ancora qui in diretta si è appena aperto il sipario su nozze di Figaro di Mozart che aprono la stagione del Petruzzelli ci colleghiamo per un attimo che si è appena aperto la stagione che si è appena aperto che si è appena aperto Grazie a tutti. Sì, possiamo trasmettervi soltanto qualche minuto di questa opera, quindi poi nell'ultimo spazio del nostro telegiornale daremo ampio spazio alla rappresentazione. Intanto noi andiamo avanti e parliamo della Bari Multiservizi. Il sindaco De Caro sarà ascoltato nei prossimi giorni dei componenti della Commissione Aziende che chiedono l'Umi sulla tanto discussa nuova sede. Ce ne parla Serena Russo. Grazie a tutti. La Commissione, secondo molti, è azzardata, visto l'enorme impegno di spesa richiesto, non solo per il fitto dei locali, 120.000 euro annui, ma anche e soprattutto per i lavori di adeguamento della struttura, lavori simati per oltre un milione di euro. Può una società come la Multiservizi affrontare una spesa così onerosa? Dobbiamo ricordare che tra tre anni l'amministrazione comunale, quale socio unico, dovrebbe versare ulteriori 2.700.000 euro per acquisire la sede. Quindi arriviamo a delle cifre da capogiro che andrebbero ovviamente a pensare notevolmente sulle carte del bilancio comunale e conseguentemente, stengo arriva a dirlo, su quelle di ogni contribuente varietta. Una cosa però dobbiamo sottolineare, consigliere Piccaro, che la Multiservizi è una partecipata del Comune, quindi il Comune tutto sommato doveva essere d'accordo con queste decisioni? Sì, stando alle carte il Sindaco ha dato ampio mandato al CDA di individuare una nuova allocazione per la sede e la struttura logistica della Multiservizi stessa, quindi c'è stato un bene placito precedente. Ora io chiedo fortemente un impegno del Sindaco a rescindere questo contratto perché altrimenti, ribadisco, ne andrebbe della solidità della società stessa, dei lavoratori, nonché dei cittadini varietti. Anche questa mattina sono stati effettuati controlli a sorpresa sui bus urbani a Bari, in un'ora e mezza sono state elevate 88 multe, lo abbiamo detto e lo stiamo facendo a ferma in Sindaco Antonio De Caro. Stamattina i vigili urbani hanno accompagnato i verificatori dell'Antab a bordo degli autobus, elevando 88 multe in meno di un'ora e mezza, questo significa che sono davvero pochi i cittadini che hanno l'abitudine di acquistare il biglietto per utilizzare i mezzi pubblici e che non bastano gli appelli al senso civico e al rispetto delle regole per cambiare le abitudini sbagliate. Noi non ci fermeremo, assicura il Sindaco Antonio De Caro. Grazie alla videosegnalazione di un cittadino che denunciava l'abbandono dei rifiuti ingombranti in maniera impropria nei pressi di Via Cancello Rotto, la Polizia Municipale ha avviato le indagini per risalire ai trasgressori. In queste ore si sta procedendo con la notifica dei verbali e delle relative sanzioni. Il Sindaco De Caro sulla sua pagina Facebook ha scritto Le strade della città non sono un mobilificio, c'è anche un certo professionismo nel fare quello che stanno facendo questi signori, mi congratulo con loro, dice eronicamente il primo cittadino e assicuro che i vigili urbani gli invieranno una multa molto elevata. E siccome su quel furgone c'è un numero di telefono vorrei sconsigliare a tutti di utilizzarlo perché ci informeremo anche sui nomi di chi ha commissionato questo scempio e mi accerterò in prima persona che paghino anche loro. Voglio invece scoraggiare tutti quelli che pensano di poter fare la stessa cosa perché i controlli sono serrati e non esiteremo a multare chi sporca, nessuno pensi di fare il trasloco a nostre spese. La procura di Bari, torniamo sull'incidente avvenuto ieri, ha iscritto nel registro degli indagati tre persone per la morte di Carmela Pizzuto, 40 anni, avvenuta ieri dopo un incidente stradale fra un'ambulanza ed un'auto all'angolo tra via Crisanzio e via Quintino Sella nel centro di Bari e nello schianto sono rimaste ferite in maniera non grave anche altre sette persone. Il PM Chiara Giordano che coordina le indagini sulla vicenda ha individuato possibili responsabilità nei confronti degli autisti dell'ambulanza, della Citroen e di un'altra auto parcheggiata in divieto di sosta e che sarebbe stata coinvolta nella dinamica dell'incidente. Domani sarà conferito al medico legale Francesco Introna del Policlinico di Bari l'incarico per l'autopsia sul corpo della vittima per accertare se sia morta a causa dell'incidente o a seguito del malore per il quale i familiari avevano chiesto l'intervento del 118. Abbattere le barriere architettoniche è l'obiettivo al quale lavora l'assessorato ai lavori pubblici del Comune insieme al settore traffico sarà presto predisposta una delibera di giunta comunale per l'istituzione del coordinamento interassessorile di un gruppo di lavoro interripartizione sui temi della disabilità. Stiamo confermando nel redigendo piano triennale annunciato dall'assessore ai lavori pubblici Giuseppe Galasso l'inserimento di un primo stralcio per 200 mila euro nel 2016, di un secondo per 300 mila euro nel 2017 e di un terzo per 400 mila euro nel 2018. Il primo di questi lavori verrà progettato contestualmente con le mie guida e ci consentirà di dare una prima risposta concreta per risolvere le situazioni di maggiore criticità. Questa sera il via la quarta edizione del premio Puglia Tavola, l'evento organizzato all'istituto Perotti che celebra la gastronomia made in Puglia e noi questo pomeriggio abbiamo sbirciato nella cucina dell'alberghiero durante i preparativi della cena di gala. Vediamo. 12 studenti del Perotti all'opera da questa mattina per preparare ma soprattutto per prepararsi alla quarta edizione del premio Puglia Tavola. Organizzato dalla Fondazione Nicolaus e dall'istituto alberghiero, il premio sarà interamente dedicato alla celebrazione dell'enogastronomia e della ristorazione pugliese attraverso gli esperti di settore che operano in Puglia e all'estero maggiormente distintisi negli ultimi anni per l'impegno nella promozione del territorio locale in tutto il mondo. 240 agli ospiti tra cui giornalisti e rappresentanti delle maggiori istituzioni della città, un aperitivo di benvenuto e poi il via alle portate, un antipasto, due primi, un secondo e infine il dolce, tutto preparato dai giovanissimi allievi sotto la supervisione di sei professori. Ormai siamo quasi addirittura d'arrivo, manca poco all'arrivo degli ospiti per questa quarta edizione del premio dell'eccellenza dell'enogastronomia pugliese che anche quest'anno si svolge qui presso l'istituto alberghiero Perotti. Quanto è importante per i ragazzi poter cucinare ma soprattutto poter servire 240 persone? Per i ragazzi io credo che sia molto importante poter vivere questo tipo di attività perché incominciano a comprendere l'importanza del servizio, cioè di avere la responsabilità di avere delle persone a cui bisogna servire preparando in maniera corretta, per cui non soltanto simulando come accade durante l'esercitazione. E chiaramente questo per loro è motivo di stimolo, motivo di voglia di crescita. Una crescita importante per i ragazzi certo ma anche un'occasione per celebrare il cibo meni in Puglia. Durante la cena di gala saranno infatti consegnati i premi Puglia a tavola ai personaggi dell'anno 2015 del settore della ristorazione e gli awards agli operatori delle strutture ricettive che con impegno ed edizione hanno contribuito a rafforzare l'immagine del territorio pugliese nel mondo. Il salone di bellezza Mimosè compie tre anni e festeggia con un open day tutto dedicato al fascino femminile. Abbiamo incontrato la direttrice del salone Mimosa Sani che ci ha svelato anche le tendenze per questo 2016. Le scopriamo insieme. Mimosè compie tre anni, come festeggia, come spegne le candeline? Allora le candeline le spegniamo in positivo perché comunque sia questa attività fatto vedere nel percorso di questi tre anni che insomma funziona. I nostri servizi oltretutto tutto quello che noi offriamo come salone è positivo. Ecco, quali sono i servizi che offre Mimosè? Che noi offriamo sono per quanto riguarda sia la cura del cappello che il make up e il benessere diciamo in generale. Come servizi oggi per esempio abbiamo dedicato questa giornata di open day in cui stiamo proponendo anche la clientela diciamo che non conosce bene ancora il nostro salone alla possibilità di vedere con i propri occhi quello che noi offriamo dando questa possibilità di poter provare ogni servizio nella giornata di oggi insomma. Parlando di mode e tendenze in fatto di capelli, quali sono per questo 2016? Allora per questo 2016 vanno le chiome comunque sia belle e voluminose, colori molto caldi e soprattutto la cura. Non dimentichiamo che oltre alla moda di quello che propongono ogni anno ci vuole molto cura anche nel tenerli. Diamo un consiglio, un ultimo consiglio a tutte le donne di prendersi cura molto dei capelli prima di tutto, del make up e che venissero a trovarci. Bene ci fermiamo, breve pausa pubblicitaria, restate con noi perché tra pochissimo vi proporremo un estratto della prima in corso a Petruzzelli le nozze di Figaro di Mozart. Un saluto a tutti da Stefania Cattaneo di Trebi Meteo, restate aggiornati con noi scaricando la nostra app per smartphone e tablet. Europa giovedì vedete situazione anticiclonica alle latitudini mediterranee, qualche precipitazione invece nelle zone settentrionali e orientali con anche neve a bassa quota in Russia e infatti in queste zone avremo temperature massime più basse, vedete invece alle latitudini mediterranee temperature molto più minti. Prima di entrare nel dettaglio uno sguardo insieme all'Italia, l'inverno ha ancora i box però abbiamo queste nubi basse, cieli grigi al nord e sull'alto terreno. Dal punto di vista delle temperature minime queste sono sopra lo zero in gran parte d'Italia, le massime comprese invece tra i 9 e i 12 gradi al nord, fino ai 16 gradi al centro, addirittura a fine 18 gradi al sud e sulle isole maggiori. Si rinnovano condizioni anticicloniche con bel tempo prevalente al sud e vi segnalo solo la possibilità di locali nebbio e foschie in arrivo in serata o nottata. Bel tempo in Sardegna, per tutte le altre informazioni in tempo reale, consultate trebimeteo.com. Rieccoci ancora qui in diretta per l'ultimo spazio del nostro telegiornale. Oggi è tutto dedicato alla prima del Teatro Petruzzelli, ve lo ricordo perché si fosse collegato in questo momento, sta andando in scena da pochi minuti, le nozze di Figaro di Mozart per la regia di Chiara Muti. Abbiamo sentito, lo avete visto nel nostro live, il presidente della Fondazione Carofiglio e il sovrintendente Massimo Biscardi. Allora, facciamo così, sentiamo anche la regista di quest'opera, Chiara Muti, che abbiamo intervistato lunedì durante la conferenza stampa di presentazione dell'opera. Andiamo a sentire insieme e poi torniamo nei nostri studi. Sono contentissima di debutare sia con Mozart e da ponte con le nozze di Figaro, che è la mia prima volta appunto nella regia d'opera per quanto riguarda Mozart, perché sono alla quinta regia, e di debutare anche con questa, che la mia regia faccia parte di questa nuova idea di coproduzione, che per me è fondamentale. Cioè, oggigiorno, che i teatri si riuniscano per far vivere uno spettacolo, che comunque ha dei costi, sia a livello di creazione, a livello artigianale, a livello di lavoro, e che quindi il lavoro non finisca là, nel teatro dove è cominciato, ma che possa poi rivivere anche in altri teatri. Questa è una cosa che tutti i teatri d'opera, secondo me, a partire dai prossimi anni devono tenere presente e proprio fare. Servirà a tutti, alleggerirà i costi e renderà più contente tante persone nelle città differenti. Prima, durante la conferenza stampa, ha parlato anche di alcuni significati un po' simbolici, un po' legati anche ad alcune figure dello spettacolo, per cui puoi eventualmente ripetere qualcuno di questi elementi che ha citato durante la conferenza? La mia maniera appunto di affrontare il teatro in musica, in questo caso le nozze di Figaro di Mozart, è legata oggettivamente alla capacità di far uscire i caratteri dei personaggi, che Mozart riesce così finemente a sottolineare e a caratterizzare proprio. Ogni personaggio ha una sua caratteristica ben precisa. Già riuscire a far uscire questa cosa significa già dare tantissimo alle nozze di Figaro, senza la ricerca di espedienti vari o tentativi di fare un po' di creare delle occasioni per esprimere se stessi. Io non voglio esprimere me stessa, voglio cercare di essere servitore umile di un'opera che vive e ci sopravviverà e quindi alla quale non abbiamo bisogno di opprimerla per i nostri scopi personali, ma cercare di darla al pubblico per quello che è. Questa Chiara Muti che ha firmato la regia delle nozze di Figaro di Mozart che ricordiamo sta aprendo la stagione 2016 del Teatro Petruzzelli. Lo spettacolo è una nuova produzione della Fondazione Petruzzelli in coproduzione con la Fondazione Teatro San Carlo di Napoli e la Fondazione Teatro Massimo di Palermo. Qualche cenno sulle dichiarazioni del sovrintendente Biscardi a commento proprio di questa prima, aprile la stagione d'opera 2016 con le nozze di Figaro in coproduzione con il Teatro San Carlo. Il Teatro Massimo è un vero onore ed una grande gioia, ha commentato il sovrintendente Massimo Biscardi. La nostra e la più giovane fondazione lirica d'Italia e ci sono molti progetti a cui stiamo lavorando per il futuro del Teatro Petruzzelli. L'importanza di realizzare coproduzioni con realtà consolidate, creative e concrete per noi è una priorità assoluta. La regia di Chiaramuti e la direzione di Meteo Econi conferiranno indubbiamente un fascino particolare a questo intramontabile capolavoro mozzartiano nato dalla sinergia di tre grandi realtà del sud Italia che si impegnano costantemente per la promozione e la divulgazione del melodrama nel nostro paese proponendo spettacoli di interesse internazionale. Così Massimo Biscardi, sovrintendente della fondazione lirico sinfonica Petruzzelli durante proprio la presentazione di questa opera. L'opera vi do qualche cenno sarà in replica venerdì 29 gennaio, domenica 31 gennaio alle 18 e martedì 2 febbraio alle 20 e 30. Bene, siamo pronti per collegarci nuovamente in diretta dal Teatro Petruzzelli dove da circa mezz'ora è iniziata la prima, le nozze di Figaro di Mozart. Buona visione, grazie per averci seguito e come sempre vi rinnovo a seguirci più tardi. Arrivederci. Buona visione, grazie per averci 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 Buona visione, grazie per averci